Non entusiasmatevi di una persona per disprezzarne un'altra. Figli cari, vi ho già parlato a tal riguardo quando vi dissi di ospitare volentieri chi viene da voi perché ci furono persone che senza saperlo ospitarono gli angeli. Per ospitalità io intendo accoglienza del cuore, e per questo vi invito sempre ad avere il cuore aperto verso tutti i fratelli. Accogliere l'altro significa fare un posto per lui nel proprio cuore. Significa adoperarsi per recargli del bene. Potete soccorrere il fratello bisognoso sia in termini temporali che spirituali, meglio sarebbe che provvedeste in tutte e due le direzioni. Oggi potete vedere intorno a voi ogni sorta di povertà, tutti siete poveri, che lo vogliate ammettere o meno. Tutti avete qualcosa da dare e qualcosa da ricevere, e più di tutto avete bisogno dell'aiuto di Dio, che vi proviene dal vostro prossimo nella misura in cui voi sapete accogliere il prossimo e prodigarvi verso di lui. Ricordate che il vostro Dio percorre vie che voi non conoscete e ogni giorno vi passa accanto, e voi non lo riconoscete. Troppo spesso seguite le ideologie del mondo e stimate chi è stimato dal mondo. Troppo spesso denigrate chi il mondo denigra. Non fate così, figli miei. Io non faccio così. Io da sempre e per sempre mi nascondo e aspetto che voi veniate a cercarmi, e venendo a me portiate i vostri doni e accogliate i miei doni. Quando vi dissi che il bene che fate vi viene ricompensato al centuplo, ricordate? Credete a questa verità? E se ci credete perché non vi mettete alla ricerca di Dio nascosto nel vostro prossimo? Perché a volte vi vergognate di essere cristiani e la vostra minoranza vi opprime? Che ne sapete voi? La famiglia più piccola sarà di mille persone, la più modesta diventerà una nazione potente. Quando il momento verrà, io, il Signore, lo farò subito. Ebbene io vi dico che i miei angeli stanno radunando tutto il mio popolo. State svegli. Voi non conoscete se chi viene a voi è un mio inviato e ha l'incarico di portarvi in Cristo la salvezza. Rimanete svegli dunque, nella preghiera ardente e nella carità operosa.